coloro che vivono d'amore vivono d'eterno e con questo slogan che il partito comunista dei lavoratori lancia a bova marina il primo gruppo di autoaiuto la rete per legare per avere supporto per opporsi a uno stato indifferente ai bisogni dei singoli individui e a una cultura dominante asservita al potere con lo scopo finale di valorizzare i soggetti portandoli a sapere affrontare i disagi in modo indipendente per conoscersi meglio e compiere con le proprie mani quel lavoro di scavo interiore scoperta delle cause che hanno condotto a determinate problematiche le attività si svolgeranno nella sala del circolo culturale delia all'interno del ristorante mediterraneo per il presidente del circolo il professore salvatore di eni è fondamentale al giorno d'oggi ritrovare questa dimensione bidirezionale dei rapporti umani a rendere possibile l'attuazione del gruppo di autoaiuto il supporto materiale e umano del professore salvatore di eni professore anche a bova marina un'antichità un'antichità che ritorna quella dell'antica grecia dell'agone politico che si svolgeva nelle nelle piazze dove i giovani venivano formati è incredibile che a distanza di più di 2500 anni anche oggi ci sia questa possibilità ritorni questa possibilità in un luogo così maltrattato da anni di cattiva politica di corruzione e di sofferenza sì grazie della domanda è vero effettivamente sia la grecia sia diciamo anche nella magna grecia questo questo spirito di confronto nelle platie nelle piazze nelle agorà come si diceva è molto importante non è stato mai soppito anche l'iniziativa adesso di questo sostegno diciamo un po' condiviso sostenibile è molto importante perché in un contesto di globalizzazione vediamo che l'uomo è un po' disperso sparuto confuso di fronte ai bombardamenti quotidiani bombardamenti che non sono sempre della pubblicità ma che non sono sempre secondo me diciamo protesi verso la globalizzazione umana e culturale soprattutto quella poi del territorio quindi l'uomo ha bisogno di questi sostegni esterni e di questi diciamo chiarimenti di carattere diciamo di pluralismo culturale ecco quindi questo è il vostro ruolo e questo è il sostegno che vogliamo dare noi come centro culturale come centro culturale greco come riferimento qui nella povesia possiamo anche dire di cavalcare il momento giusto perché l'attuale situazione con la diffusione della tecnologia il mondo globalizzato ha fatto perdere molti di quei lavori che una volta erano affidati all'uomo quindi ha dedicato i lavoratori stessi a un'attività terziaria attività terziaria significa di supporto sociale proprio di sostegno agli altri quindi che potrebbe essere di sostegno agli altri? Un'occasione questa da non perdere? Indubbiamente un'occasione da non perdere perché abbiamo accennato precedentemente che la globalizzazione non porta alla valorizzazione dell'uomo ma soprattutto è protesa al mondo venale il ruolo di questa diciamo è il momento opportuno appunto viviamo le epoche diciamo giuste perché mentre da una parte vi è una svalutazione dei valori morali, sociali e purtroppo anche politici che devono servire come supporto della degnità umana notiamo come cresce l'esigenza di questa richiesta invece diversa di quella che è la globalizzazione e la massificazione appunto quando manca secondo me da una parte da quando mancano i valori quando mancano i beni essenziali allora si evidenzia l'esigenza di recuperarli e di riportarli diciamo di proiettarli a favore dell'umanità questo sta succedendo perché l'umanità si sta diciamo come dire polverizzando però poi noi vediamo queste cose dal nostro punto di vista si sta polverizzando sotto un martellamento ripeto della pangosmiopis come si dice in greco della globalizzazione cioè di rendere il mondo un paese questo per alcuni aspetti dal punto di vista di alcuni rapporti potrebbe essere anche positivo però se fosse diciamo inquadrato nei giusti canali e se fosse visto e indirizzato soprattutto questa globalizzazione a servizio dell'uomo e non a discapito dell'uomo è a favore di poche diciamo di alcuni gruppi che governano il mondo autoaiuto professore autoaiuto significa entrare nella psicodinamica delle persone psicodinamica significa psicologia psicologia e figlia della filosofia dell'arte della conoscenza quindi le riguarda da vicino questo tema e cosa si aspetta lei che è un po' del settore quindi ha un pochettino queste conoscenze, questa autorevolezza filosofica quali sono le sue aspettative e che contributo darà personalmente? Personalmente fra l'altro ci sono validi collaboratori inseriti nel settore molto più validi di me io oltre alla struttura fisica, l'apporto umano che posso dare cercherò anche io di apprendere da questi interventi e da questi momenti di incontro sono certo però che anche qui assieme al centro che guida questa associazione al gruppo dirigenziale siamo certi che questi aspetti questi interventi riusciranno a valorizzare la singola persona perché lo scopo principale è di indagare la psicologia non indagare dal punto di vista medico di capire quello che l'uomo ha esigenza ciò di cui l'uomo ha esigenza non ciò di cui l'uomo oggi viene sottoposto ad accettare ad ogni condizione il problema principale è rendere l'individuo protagonista non al senso macchiavellico diciamo viusque Faber, fortuna sua, ognuno è fattore della propria fortuna del proprio modo di vivere, del proprio concetto però essere appunto protagonista nella quotidianità e non lasciare ad altri che intervengono sul nostro percorso culturale sulla nostra quotidianità di vita anche per esempio negli aspetti più semplici di quello che dobbiamo anche mangiare perché la globalizzazione purtroppo ci porta anche a questo e quindi siamo costretti molte volte a rivolgersi alle grandi organizzazioni mentre noi abbiamo le nostre campagne le nostre terre, i nostri centri in Calabria per esempio ognuno di noi ha un piccolo appezzamento di terra che proviene dalla cultura dalle tradizioni, dal franzionamento che già da cento anni oltre caratterizzava questo territorio della proprietà privata che è sagra per la Costituzione italiana quindi valorizzarlo e quindi cercare anche attraverso le produzioni che oggi vanno quelle diciamo igienicamente controllate che siano a servizio del cittadino e non essere diciamo alla mercè delle grandi organizzazioni della distribuzione ma anche questo nella cultura non solamente nell'arte culinaria ma anche questo nel vestire perché l'uomo deve essere anche il cittadino deve essere anche protagonista di se stesso lo scopo principale suppongo essere protagonisti di se stesso la sede sarà aperta ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 19 preparatevi al grande salto nella vertigine dei sensi e dei significati nel quale se cadrete stavolta non rimarrete soli grazie a tutti